Amare. Amare non è semplice. Ognuno di noi cerca serenità, stabilità, ma è proprio l'incertezza che ci attira. Un libro già letto, un film già visto, non ci interessa. Un foglio bianco tutto da scrivere, colorare, quello sì che ci incuriosisce. Quante cose potrebbero nascere? Oppure un paesaggio da esplorare? Noi cerchiamo ciò che non vogliamo e quando troviamo chi riesce a distrarci dai nostri impegni, lo fissiamo come un qualcosa di inaspettato, come una persona inadatta, ma che riesce ad attirare la nostra attenzione. Chi programma la propria vita non sarà mai felice. L'inaspettato genera felicità e la felicità è solo uno stato d'animo, una sensazione che fa vivere bene, perché una giornata senza un sorriso è come un treno fermo, abbandonato, che guarda gli altri suoi compagni andare via, felici di sfruttare a pieno le proprie capacità, senza sprecare neanche un secondo della propria vita.